Ciao Mi è stato chiesto di rispondere alla domanda Chi te lo ha fatto fare? Cioè chi mi ha spinto? Chi mi ha convinto a diventare prete? Beh, bisogna dire che c'è un lavoro fisso, una casa sicura Poi un lavoro che è in crisi Quindi mancano posti di lavoro Perciò non dovremmo avere problemi Ma a parte questa battuta Quello che mi ha spinto a diventare prete È il donare la vita per il Signore Gesù Ma nella concretezza della vita dell'oratorio Cioè dello spendermi per volti e per persone note e conosciute A cui poter fare del bene Con cui condividere quello che vuol dire essere cristiani Quindi direi proprio questa qua In pochissime parole direi Che è questo che mi ha convinto a diventare prete Che è questo che mi ha spinto a diventare prete